Basta raccontare menzogni, i soldi per fare le manifestazioni ci sono ma sono stati dirottati ad altre scelte politiche. Va all'attacco il consigliere comunale dell'Udc Davide Del Vecchio che illustra alcuni capitoli di spesa riguardanti le decisioni prese dalla sinistra che governa Fano e che, secondo Del Vecchio, dimostra l'arroganza di un partito che fa scelte di palazzo contro le attività commerciali, contro quelle dei quartieri e delle frazioni facendo tornare la città all'era Carnaroli. La Giunta continua ad annunciare tavoli di concertazione anche sul centro storico, gli eventi e il turismo, afferma senza assumersi la responsabilità delle scelte fatte sulla programmazione dell'estate in corso. Se non c'è una pianificazione seria, se non ci sono fondi stanziati nel bilancio 2015 e si sono saltate due manifestazioni importanti come la Fano dei Cesare e il Carnevale Estivo il motivo vero per il consigliere d'opposizione è che la Giunta non vuole queste iniziative. Bisogna avere l'onestà di dire abbiamo fatto scelte diverse, non ci interessano né i commercianti, né il turismo, né le manifestazioni non ci interessano neanche le attività commerciali dei quartieri che sono state lasciate completamente sole mentre invece, per esempio, con la Fano dei Cesare venivano tutti coinvolti e abbiamo speso soldi in altre cose maggiori fondi al Fano Jazz più 40.000, passaggi festival più 20.000, spese per le consulenze esterne specifiche 30.000 aumento delle indennità per il settimo assessore 45.000, manutenzione municipio comunale 75.000 assunzione vigili urbane a tempo determinato quegli estivi 108.000 e acquisto del nuovo autovelox 30.000 totale 348.000 euro, cioè tante somme che messe insieme fanno veramente centinaia di migliaia di euro qui con 100, 120.000 euro potevamo dare un luglio ben organizzato dal punto di vista delle manifestazioni del coinvolgimento anche della popolazione con la Fano dei Cesari, con il carnevale estivo ma con tante altre iniziative che si potevano mettere in campo, quindi è un grave errore bisogna che si assumano le responsabilità delle azioni politiche che portano avanti e come ho detto tanto tempo fa, qualche mese fa, sono tornati i tempi bui.